signori iniziati film netflix 2021 commedia non è la solita commedia francese ad alto livello è un medio livello carina comunque molto molto scorrevole magari la prima parte sembra un pochino esagerata ma per arrivare alla seconda parte quindi ci può stare il mio voto un sette e mezzo niente di eccezionale però scorrevole basta così un saluto a tutti se volete iscriviti al canale se volete lasciate un like ciao ciao